Ben ritrovati e ben ritrovati! Sarà una settimana interessante, probabilmente non scoppiettante, ma con la Juventus destinata a proporre delle cose in chiave mercato, soprattutto in uscita, ma senza sottovalutare anche ciò che poi i bianconeri dovranno fare in entrata. E' chiaro, la continanza della linea guida al momento è rappresentata dalla necessità di sfoltire l'organico e di piazzare nei migliori dei modi tutti quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico. Dejan Kulusevski era uno di questi, la Juve ha ufficializzato nelle scorse ore la sua cessione al Tottenham per 30 milioni e ora dobbiamo aspettarci che accada qualcosa di analogo sul fronte Weston McKennie e sul fronte Denis Zakaria, perché sono tra i calciatori più cercati di proprietà della Juve e che non resteranno nel capoluogo piemontese, ma anche qui Giovanni Manna, Matteo Tognozzi, Francesco Calvo, non c'è fretta di vendere perché sennò diventerebbe svendere e siccome la Juve sa di avere tra le mani dei calciatori che sono di buonissimo livello e che altrove sono spendibili perché hanno ingaggi alla portata, allora i bianconeri si prendono tutto il tempo necessario per valutare le offerte che arriveranno, per incontrare agenti, incontrare intermediari, quindi è lecito pensare che Manna e Tognozzi, come la scorsa settimana, spenderanno tanti giorni a Milano. In entrata credo che la Juve punterà in settimana a chiudere l'acquisto di Arek Milik dall'Olympic Marsiglia, il giocatore vuole rimanere a Torino, Max Allegri vuole che il centravanti polacco resti all'ombra della mole, Juve e OM hanno ottimi rapporti, cosa manca? Ancora qualcosina a livello di modalità di pagamento, insomma la Juve ha questa opzione che è già fissata a 7 milioni, quindi automaticamente con questo esborso il calciatore diventa a tutti gli effetti della Juve, la strada è ampiamente tracciata, sebbene poi nelle ultime due settimane abbiamo raccontato consumatori un po' differenti, la vicenda a Milik, inizialmente la Juve che comunica al Marsiglia l'intenzione di non voler esercitare l'opzione, poi successivamente la Juve che chiede Milik per un'altra stagione in prestito, ma l'OM rifiuta, poi la Juve che decide così di intraprendere la via del prestito con obbligo mettendo sul piatto un milione e mezzo, subito cinque milioni e mezzo al termine della stagione che inizierà tra poco, poi invece la Juve che sempre contatta il Marsiglia e ritorna sulla volontà di prendere a titolo definitivo, io però credo che tra tutti questi discorsi la volontà della Juve sul fronte mili, che la priorità sia quella di dare meno soldi possibili nell'immediato per poi esercitare, o meglio, magari fare anche subito un'operazione a titolo definitivo, ma cercando di dilazionare i pagamenti, non mi sorprenderebbe se la Juve per esempio dovesse dare un milione e mezzo subito al Marsiglia e cinque milioni e mezzo distribuiti in tre, quattro rate. Ricordiamoci che lo stesso Tottenham prende Kulusevski pagandolo sostanzialmente in serate, quindi questo è però, siamo davvero nei tecnicismi alla fine della fiera, credo proprio che Milik restere a Torino, e questa mi sembra la settimana giusta per mettere il puntino su questa vicenda che comunque dai, è destinata a soddisfare tutte le parti chiamate in causa. Ci saranno altri incontri, la scuola settimana c'è stato, questo contatto a margine dell'Assemblea di Lega per esempio tra Juve e Sassuolo per Frattesi, che anche ieri contro l'Olanda mi sembra che abbia fatto particolarmente bene, io sono un fratteser, considero che Frattesi sia già un ottimo giocatore, è chiaro che al momento anche le manovre dell'Inter sono forti, non so se più convincenti per il calciatore, perché l'Inter a differenza della Juve può mettere sul piatto la Champions, poi si può ovviamente all'insegna dello sfottò scherzare, ridere, ma se parliamo dell'Inter parliamo di una squadra che ha rischiato di portare a casa anche la Champions in questa stagione da poco conclusa, quindi ci sta che magari per un calciatore vuole fare un certo tipo di salto, l'Europa che conta venga prima di altre possibili destinazioni. Quindi vediamo cosa succede, questo aggiornamento che c'era stato tra i due DG, Calvo e la D, anzi del Sassuolo Carnevale a margine dell'Assemblea di Lega, è stato definito da fonti vicine al Club Nero Verde un incontro interlocutorio, quindi vediamo se ci saranno passi in avanti, ma credo proprio che il Sassuolo abbia tutto l'interesse di scatenare un effetto asta. Ci sarà anche un incontro molto probabilmente con l'Empoli in settimana, si parlerà di Parisi e di Ranocchia, Parisi fa parte di quei calciatori che la Juve monitora per la fascia sinistra, perché lì adesso dobbiamo capire cosa accadrà, si tornerà a difesa 4, si giocherà con i quinti, però sicuramente Parisi nel corso dei mesi è stato osservato ripetutamente dagli scout bianconeri, e ieri ho chiacchierato, sebbene fosse domenica, ma per il manager non esiste domenica, e lavorano tantissimo, ve lo garantisco, e ieri ho ricostruito che in settimana ci dovrebbe essere un incontro con l'Empoli, che stima molto Filippo Ranocchia, che torna alla Juve dopo il prestito al Monza, con i brianzoli che hanno deciso di non esercitare l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo, e quindi la Juve deve trovare una collocazione a Ranocchia, un giocatore che secondo me prima o poi verrà fuori, perché è una mezzala moderna, una mezzala fisica, se giocare con due piedi forse manca un po' di velocità in alcuni infrangenti, ma mi piacerebbe tanto vederlo magari proprio ad Empoli, che mi sembra un oasi felice per i giovani, ha un tecnico molto preparato come Paolo Zanetti, insomma, tra Milik questo incontro con l'Empoli e ciò che potrebbe succedere su Zaccaria e McKennie, si preannuncia una settimana molto interessante. Poi rimane appeso sempre lì Adrienne Rabiot, continuo a pensare che sia una missione molto complicata a strappare il sile del transalpino, però bisogna fare mera cronaca, è la stessa che dice che la Juve attende, attende la risposta definitiva da parte della mamma gente Veronique, che da quello che ho intuito si è preso tutto il tempo necessario, senza fretta, per dare appunto una risposta alla Juve, è chiaro che non si può attendere in eterno, perché se Rabiot non rimane la Juve è cercare di fare un colpo lì a centrocampo, perché perdi gol, perdi assist, perdi i migliori giocatori di questa stagione, rendimento alla mano, e non è facile sostituire il Rabiot, però se così fosse non finisce il mondo, e si va avanti e si cerca di portare a Torino un giocatore con le giuste caratteristiche. che ci sono suggestioni, circondano tantissimi nomi, in questo momento dobbiamo fare molta attenzione, perché è facilissimo accostare i calciatori a qualunque squadra, fa parte anche delle dinamiche del mercato, perché noi discutiamo H24 adesso per tre mesi, quindi ci sta tutto, ma dobbiamo capire anche l'ordine delle priorità, non sottovalutiamo il fatto che la Juventus debba sfoltire l'organico, che la Juventus debba soprattutto abbassare i montengaggi, è un esercizio che si può fare, perché abbassare i montengaggi probabilmente significa essere meno competitivi, ma proprio con i montengaggi più basso, negli anni recenti la Juventus ha proposto le cose migliori, e non è un caso, non è proprio un caso nella maniera più assoluta, significa che quando il portafoglio è pieno è facile spendere e spandere, quando invece il portafoglio è meno pieno, bisogna far funzionare questo, e ora la palla, è nelle mani di Giovanni Manna, di Matteo Tognozzi, dello stesso Francesco Calvo, sempre in attesa di Cristiano Giuntoli, vediamo se in settimana ci sarà qualche aggiornamento da questo punto di vista, perché il Napoli suo allenatore ce l'ha, Rudi Garcia è stato ufficializzato ormai da giorni nel post, come post, Luciano Spalletti, quindi vediamo se il manager toscano riuscirà a liberarsi, con un anticipo da contratto in essere con il Napoli, la Juve lo attende a braccio aperto.